Ciao Giorgio Non volevo rompe i cogliere Ti sento dentro Oggi rispondo a Big Luga Finalmente dopo il video su Thomas Magory Che me l'avete chiesto in tantissimi Ma non parliamo ancora dei suoi corsi Quello arriverà, ve lo prometto Parliamo di un video che ha fatto sulle start up Infatti l'ho visto sulla mia home page Sto seguendo Big Luga abbastanza Devo mettere per studiare un po' il personaggio E sono 5 minuti di video Su cui ci sono molte cose da dire Quindi sentirò un po' quello che dice Sto però, vi dirò la mia Quello su cui non sono d'accordo E anche cose su cui sono d'accordo Pensate un po', pensate a che punto siamo arrivati Quindi lui in questo video ci spiega Il suo punto di vista sul mondo delle start up Che chiaramente è tendenzialmente negativo E volevo fare un po' di chiarimenti Perché penso che a volte faccia un po' di confusione Quindi vi faccio vedere subito il video Eccolo qui Per rispondere alla tua domanda La start up Bisogna metterci veramente molto d'accordo Allora, start up è una fase Cioè la fase To start something up Start up è un frisal verb Cioè è un verbo che indica un movimento Ok? Adesso non è la traduzione Però ci capiamo Quindi iniziare a fare una cosa Va bene? Quindi qualunque azienda Ha un processo di start up Quando la vi comincia a acquisire i primi clienti I primi fornitori Ok, questo è sbagliato O meglio Chiaramente quello che dice è corretto Cioè to start something up Può voler dire Cominciare qualcosa Però mi sembra Un modo pretestuoso Di usare la semantica Perché è chiaro A chiunque abbia parlato Con un investitore In start up Che Start up non vuol dire Semplicemente un'azienda Che sta partendo Un qualcosa in fase di avvio Non è quello che si intende Quando si parla di start up Come azienda Cioè tu puoi usare il verbo Start up I'm starting up A water bottle company Ma non è una start up Ok? Magari è un qualcosa Che confonde Quando se ne parla In questi termini Ma E questo è il dato di fatto Ho fatto anche un video in merito Se volete approfondire Dovrebbe essere O qui O qui E in risposta a Surry Che parla di start up Anche lì provo a spiegare Il mio punto di vista Su cosa effettivamente Sia una start up Quindi c'è una definizione Come direbbe Paul Graham Start up is a company Designed to grow fast Quindi questa per esempio È una componente fondamentale Di una start up L'incertezza su product market fit È un'altra componente Tendenzialmente base Di una start up Quindi non è vero Non è vero che qualsiasi azienda È una start up Perché è in fase di start up Se capite quello che intendo Non è vero che un'azienda È una start up Perché è in fase iniziale Ci sono piccole e medie imprese Che nascono Sono in fase iniziale Non sono né peggio né meglio Di una start up Semplicemente Non lo sono Perché non hanno questa componente Del crescere in maniera Esponenziale In maniera rapida Perché non hanno questa incertezza Del modello di business E tante altre cose Quindi partirei da qui Quello che dice secondo me Sta confondendo un po' le acque Organizzi Quando finisce questa fase Non è chiaro Ok Secondo me Quando un'azienda Si sostiene Da sola E l'azienda È quell'entità E da lì il mio problemino Con le start up Che si sostiene da sola Allora facciamo lì Ok Lui dice Non è chiaro Quando una start up Smette di essere una start up Sì potrei anche essere d'accordo Ok Non è chiarissimo In effetti Quando questa transizione avviene Quando è che sei una start up Quando è che sei una scale up Però ci sono Dei tentativi di spiegazione Adesso mi sono ricordato Di questo articolo Del 2014 Quanto pare Non pensavo fosse così vecchio Su TechCrunch In cui si prova a dare Una prima definizione Penso questa sia una delle prime Che è stata data Lui dice Lui ha inventato questa regola Del 50 100 500 E quindi dice Se Il tuo Revenue run rate È sopra i 50 milioni Se hai più di 100 impiegati O Se la tua valutazione È sopra i 500 milioni Non sei più una start up Articolo vecchio Magari i numeri adesso Dovrebbero essere un po' più pompati Visto che Il mercato è cresciuto Moltissimo Però Arriva un punto Se vogliamo essere Meno pratici Meno numerici Si potrebbe dire Che smetti di essere Una start up Nel momento in cui Hai validato La necessità Del tuo prodotto All'interno del mercato Quindi hai validato Che c'è Product market fit Che riesce a vendere Che c'è interesse In quello che stai vendendo Certo In questo caso Rimane una definizione Un po' allabile Però A un certo punto Smetti di essere start up Se hai fatto un IPO Magari Per comodità Le persone Continuano a chiamarti start up Ma non sei più una start up Sopra i punti elencati da lui 50 milioni di revenue run rate Annuale Magari sei una scale up Ok Quindi si entra Dentro altre definizioni Chiaro Non è facilissimo Ma Allo stesso modo Ti potrei chiedere Ma Cos'è che definisce Un enterprise Non lo so Magari lì c'è più È più definito Perché è un mercato Anche più Più stabile Che esisterà più tempo Però Ecco Anche qui Mi sembra Un'argomentazione Un po' povera Perché l'ambiente Delle start up È di nerd Che fanno queste cose Non si sostengono Con i clienti Infatti Si vantano Di chiudere Round di finanziamento Quando tu chiudi Un round di finanziamento Vuol dire che non avevi I soldi Perché se no Non saresti in debito Oppure sei stupido Perché se diminuisci La tua equity Della torta che hai Quando i soldi li hai Non è molto intelligente Allora In questo punto Come avete sentito Big Luca Si fa forza Di un fatto Che effettivamente In alcune start up Si può trovare Cioè Si concentrano solo Su raccogliere Round investimenti Non si concentrano Tanto sul cliente Io su questo Non ho tantissimo Da dire Però so che c'è Una persona Che invece È esperta del campo Cosa ne pensi? Non saprei Adesso Non so bene Di che stiamo parlando Ma è l'argomento Però sì Sulle start up Sugli investimenti Raddoppi ai prezzi Bene bene No Allora Diciamo In questo punto Il nostro Grandissimo esperto Si lamenta un po' Con le start up Dicendo che Mentre lui Prende soldi Dai propri clienti Che lo pagano Le start up Si concentrano su Raccogliere soldi Di investitori E celebrano Solo quando raccolgono Un round E che sono stupide Se Se fanno debito Questa parte del debito Non l'ho capita Perché quando tu fai Un round In investimento Tendenzialmente Non fai linee di debito Semplicemente vendi Una fetta dell'azienda Dice perché lo fai Se hai i soldi Che Se hai soldi Che ti entrano Perché se non ne ha bisogno Magari con lo stesso Motivo per cui Fai un mutuo Anche se hai il cash Per pagare una casa Non vuoi rischiare Soldi tuoi Non vuoi rischiare Soldi tuoi Ma poi soprattutto Spieghiamo a Big Luca Come funziona Un po' Il meccanismo Cioè tu Hai Un'idea iniziale Magari non hai il cash Per iniziare Quindi degli investitori Mettono i soldi Per avere il ritorno Necessario Gli investitori Hanno bisogno Che tu cresca A una certa velocità C'è un bellissimo video Di Tommaso Di Stefano In cui vi spiega Quali sono i ritorni Che un investitore cerca In una start up Per effettivamente Pensare Che l'investimento Sia giustificabile Devo essere 30 40 50 volte Quello che ha investito Lui inizialmente Per raggiungere Questi numeri C'è bisogno Di tantissimo capitale Perché lo investi E cerchi di conquistare Una fetta di mercato Che al momento È poco È poco circuita E se non hai capitale Per farlo velocemente Rischi di manere indietro Quindi La spiegazione a Big Luca Direi che È questa Vediamo come Come continua Quindi non si sostengono Con i clienti Le start up Che vogliono Semplicemente trovare Un conglomerato Molte volte deve Semplicemente ripulire i soldi E parliamoci chiaro Sono stato comprato Da il fondo Ceco Slovak Dai per piacere Non sai neanche di chi è Ma che visione distorta Dalla realtà Ok Ma questa roba Che vuol dire Scusate Vuole ripulire denaro Cioè Non lo so Magari Sono stato fortunato io Però non mi è mai sembrato Di Di aver lavorato Con gente Attenti Alle Alle frequentazioni Non lo so Non lo so Vabbè Magari Farò un po' Di Mi investicherò un po' Sui vari founder Con cui ho lavorato Però tendenzialmente Non mi sembra che nessuno Sia stato Abbia lavorato per aziende Che poi sono state chiuse Per esempio in America Per falsa pubblicità Abbiano guadagnato Su quei argomenti lì Come esempio Non lo so Potrei farne Potrei farne tanti altri Ok Avevano tanta fretta Ma Mi chiedo il perché Non ci sono vendite Quindi non c'è un valore economico E sono sostenute dagli investitori Oltretutto ci sono casi E adesso stanno regolamentando in America Proprio perché Cioè Liquidano gli investitori uscenti Con i soldi degli investitori entranti Ponzi scheme di start up Sì Mi sa che sta confondendo un po' le cose Perché Di solito Quando c'è un nuovo round di investimento Tu Gli investitori Anzi Sono i founder Che devono dare La Il permesso Agli investitori iniziali Di vendere le proprie share A volte Dipende dagli accordi che hai Il secondary market Delle start up Non è un qualcosa di Molto Sviluppato Poi soprattutto Quando ha fatto questo video Lui Che anno era No l'anno scorso Ok già Già era presente Però Mi sembra veramente Una Mi sembra veramente Un'affermazione Che non ha Né capo né coda Cioè Mi sembra veramente Buttare termini a caso Lì per Quando c'è una start up Che fa un round In In decrescita C'è con Una valuation Inferiore Al round precedente Che è raro E quando però Le cose stanno andando male Può succedere Qualche investitore Voglia uscire Ma è raro E comunque No no Ma capita Per esempio Che non lo standard Non è lo standard Non è il percorso standard C'era C'era Marcello Ascani Ha parlato con il fondatore Di Hfarm Che era investito In D-pop Che poi è diventata unicorno E' fatto Diciamo Valutazione Ultra Miliardaria Loro hanno detto Si sono un po' mangiati le mani Perché Nel serie 6 Hanno Sono usciti Hanno venduto Le share Che avevano E l'hanno vendute All'investitore Iniziale Ma non è In teoria Un investitore Intanto le vuole tenere Le share Se l'azienda sta andando bene Quelli che hanno fatto I soldi veri Quelli che hanno investito In Uber Hanno investito Nel seed E sono rimasti Fino all'epio Quindi questa cosa Del liquidare i soldi Degli investitori iniziali Mi sembra Dipende dal VC Alcuni VC vogliono fare Un flip rapido Magari se c'è un round Round X Round X più In cui l'evaluation Fa già tre per Magari se ne vogliono Andar via Però è Come qualunque investimento C'è chi C'è un certo punto Quando supera La soglia di rischio O quando dici Ok io con questi soldi Ci vado a Panama Faccio fire Cioè non è che Poveri investitori Che vengono presi in giro Gli vengono passati I soldi degli altri Ma tutto quanto Penso tranquillo Limpido Decidono loro Cosa fare Cioè non Mi sembra Pre economico E sono sostenute Dagli investitori Oltretutto ci sono casi E adesso stanno Regolamentando in America Proprio perché Cioè liquidano Gli investitori uscenti Con i soldi Degli investitori entranti Cioè io faccio Una roba del genere Mi arrestano per Ponzi Chiamiamolo per come Secondo me Non è così facile Essere arrestati per Ponzi Che dice Dove stanno Che stanno regolamentando In questo momento In America Non ho visto Non ho sentito Tutta storgente De regolamentare Il fatto che Investitori entranti Stanno dicendo Ok Secondo me Sta facendo un po' Di confusione Anche con Con l'EPIO Con Non so Forse investitori Intende Quelli che comprano Crypto Su Exchange Non lo so Non so qual è La sua figura È difficile da decryptare Forse non siamo Al suo livello Quindi È una startup E in qualche modo Evoca Ormai Ha assunto quasi Una po' Quindi in Silicon Valley La startup Ha una connotazione È un'azienda Che parte Nel mondo tech Che in qualche modo Dice di avere O si inventa O parla di una tecnologia Disruptive Cioè una qualche novità Che cresce molto Velocemente E non è chiaro Su che benchmark Cosa vuol dire Crescere velocemente Non è vero C'è il benchmark Triple Triple Double Double È una delle frasi Più famose Del mondo Delle startup Benchmark Lì non ce ne stanno Io penso Ho capito un po' Il meta Cioè lui fa consulenze Non a startup Le startup Non andranno mai Da lui Fa consulenze Al venditore Di frigoriferi Che deve Tirare a campo Al prossimo anno E vedere se riesce A alzare Le revenue Del 5% E quindi Sta parlando Al suo pubblico Ragazzi Ma le startup Le fanno Quelli che non hanno bisogno Di me Quindi Voi che avete L'agency Voi che avete L'albergo Che fate Riparazione di tetti Io sto seguendo Belluca alla grande Quindi ho visto Varie che stadi Sì sì Riparazione di tetti È uno dei che stadi Che portano più In alto Esatto E se non fai cose fisiche Dovessuti Non conta Come vendere Quindi Esatto Quindi lui Sta parlando Al suo pubblico Ovviamente Sì Comunque La parte di benchmark A parte il fatto Che tu sei In benchmark Contro le aziende Nel tuo stesso ambito Ok Cioè semplicemente Gli investitori Possono chiedere Agli altri investitori A persone che lavorano In altre startup Tu e competitor Quanto stai crescendo Fammi vedere i numeri Se cresci più In fretta Più Più lentamente Quello è un benchmark Ma poi Prima citavo Triple triple Double double Quello è lo standard Che gli investitori Cercano nelle startup Una volta che raggiungi Facciamo finta Un milione di ARR L'idea Il path ideale Chiaramente ci sono 3000 fattori Dipende dall'industria In cui ti trovi Dipende dal tipo di prodotto Che vendi il margine Ma loro vorrebbero vedere Tendenzialmente Che riesci a triplicare Le revenue Il primo E poi Il secondo anno Un'altra volta E poi duplicarle I due anni successivi Questo è Tipicamente il benchmark Che viene utilizzato Quando si parla di queste cose Hai tanti investitori Che ti danno Tanti milioni Cresci perché Hai tante vendite Cresci perché Hai del profitto Perché in ultima analisi L'azienda Deve avere un rapporto Quanto meno pari Tra quello che entra E quello che esce Allora dire Tesla Uber In realtà un po' concordo Dai Un'idea di break even Di sostenibilità Profittabilità Cioè devo dire Alcune cose Sono sensate Da questo punto di vista Nel senso che C'è stato un hype Nel mondo delle start up 2020-2021 In cui si pensava Troppo al Ok devo crescere Devo mostrare crescita E poi non c'era un piano Per break even Non erano Potenzialmente Profittevoli Come aziende Però L'abbiamo spiegato prima Cioè il concetto è Tu prendi soldi Da investitori Perché l'idea Che cerchi di realizzare Funziona solo A una certa scala Oppure Ci sono potenziali competitor Che possono attaccare Quella fetta di mercato Tu raccogli tanti soldi In modo da riuscire A posizionarti Meglio di loro Prima di loro A sviluppare il prodotto Più velocemente E quindi lo fai a perdita Ma questa è una cosa Che esiste pure per il ristorante Cioè quando tu apri Il ristorante Non è che vai Impari il giorno stesso I ristoranti Penso siano il business Peggiore Peggiore possibile Che falliscono Dopo le compagnie aere Dopo le compagnie aere E quindi Cioè per tutti i business C'è un tempo Di investimento iniziale Quando vendi corsi Magari investimento iniziale Sono le due ore Che utilizzi Per registrare il corso E il microfono cinese Quando fai start up Magari a volte Possono essere anche Centinaia di milioni Che vengono messi lì Da investitori E che sanno I rischi che corrono Poi vabbè Tu conosci meglio i numeri E dici anche spesso Che come asset class In realtà Le start up Sono un po' sbilanciate Non hanno ritorni Così alti Per la volatilità Però ci sono persone Che ci fanno soldi E anzi Per un investitore esterno E agnostico Non sono un grande Tipo di investimento Sono perfette Per chi è nel settore Chi può dare una mano Cioè se entro come investitore E ti faccio fare network Ti do strumenti Di cose Puoi avere un grande edge Se tu dall'esterno Fai alla sur Con questo start up Perché vede Gli ideogrammi Che ti piacciono Il tuo aspecto De retarne È molto inferiore Rispetto a tutte le altre Asset class Sì esatto Tra l'altro ricordiamo Che nel mondo VC Lo dicevo da qualche parte Ma penso che sia veritiero L'80% dei ritorni È dal 20% dei fondi Quindi Se tu sei Sequoia Se tu sei 20 VC Se hai un network Molto forte Hai un vantaggio enorme Perché hai un sacco Di start up interessanti Che ti bussano alla porta Fondamentalmente L'obiettivo è di avere Un rapporto impari Cioè che Entra di più Di quello che esce Perché altrimenti È come una dieta Se tu non bruci Più di quello che consumi Non dimagrisci Non è che ce n'è E se devi mettere su massa Devi avere un introico Superiore a quello che bruci Se no torni in pari Non è che ci sia molto Da discutere Quindi il termine start up Mi dà fastidio Perché è Usato Bella la finta bevuta Del caffè Con rumorino Sta proprio parlando Ai riparatori di tetti E ai venditori Di frigorifero E sta parlando A chi ha Lo stabilimento balneare Cioè I suoi business È ovvio che A regime A regime Per la start up Non esiste regime Start up C'è una cosa Che non esiste È un punto di regime Cioè La start up Cresce 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 Exit Se la compra a Google È più Sì Mentre invece Una Una azienda Tradizionale Lo stabilimento Balneare Deve a regime Avere ovviamente Un cash flow positivo Sennò Come start up Se sei stagnante Non sei interessante Quindi Quello è fondamentale E poi un'altra cosa Gli investitori Perché non vogliono Che le start up Facciano profitto Non è che sono stupidi E non gli interessa Semplicemente Per il rischio Che corrono Non ha senso Cercare di Semplicemente Fare Campare Con i dividendi Delle start up Dove investi Non ne vale la pena Intanto perché è un lavoro diverso Se tu investi in aziende Per dividendi Aziende private Che neanche devono fare La parte di contabilità Che è richiesta Quando sei listato in borsa C'è un lavoro enorme Dietro di controllo C'hai i founder Che non sono più incentivati A far crescere l'azienda Ma sono incentivati A fare come il 95% Di quelli che hanno L'azienda personale Tipo me e te E c'è l'accountant Che ti chiama E dice Ma spendeli sti soldi Che se no fai profitto E ti alzano le tasse E quindi si comprano la macchina E quindi tu investitore Dici Cavolo Tu ti sei comprato la macchina E quindi togli Potenziali profitti a me Cioè è un discorso Anche proprio pratico Di gestione Che non conviene A quelli che investono In questo tipo di asset class A sproposito Cioè C'è un gruppo di ragazzi Di solito Con una forte connotazione tecnica Con i programmatori Eccetera Che assolutamente Bene Vi mettete insieme I programmatori Non sapete Vabbè dai Questo glielo possiamo far passare Sì dai È importante parlare Parlare la lingua italica Dai lo sappiamo E cosa state facendo Vi mettete a chiedere Milioni di dollari Bravi che vi li fate dare Però è come dire C'è uno che Bravo lui ti ha truffato Per un miliardo Io non sono d'accordo Bravo Tu per caso Conosci sviluppatori Che solo per essere sviluppatori Hanno ricevuto un sacco di soldi Quando hanno fondato una start up Allora Un secondo Quindi abbiamo Gente che crea Open AI Che è bravo Perché si fa a dare milioni di dollari E però sta truffando Gente che ha 10k l'ora Al benzinaio Che è ok Ok E leggerli diciamo Come ipotesi A leggere Sì diciamo anche qui C'è un fondo di verità Nel senso che 2021 Se eri un ingegnere Che usciva da facebook Ti mettevi insieme al tuo amico Che usciva da google I soldi ti ritiravano dietro Ok Però Ogni Ogni vent'anni lo fanno Anche nel 99 Era così Ah e poi se lo fanno È perché si aspettano Che ci sarà un ritorno Perché già le tue skill Hanno un valore enorme Aziende come facebook Come google Magari ti pagavano Mezzo milione l'anno E quindi Credono che tu Possa mettere Perché hanno parlato con te Hanno visto che c'è la grinta Che c'è un'idea Che c'è un Un goal Pensano che sia Qualcosa che vale il rischio Quindi Non lo so Chiamarlo truffa Mi sembra veramente Veramente ridico Ha avuto delle abilità Bernie Madoff Sicuramente era in gamba Perché si è fatto dare 50 miliardi Dai miliardali Ok però Va bene Quindi Chiedono finanziamenti A persone ricche Come me E molte volte stupide Molte volte hanno soldi Che gli escono dalle orecchie E E su questo No Cioè ok Gli manca Però Non sa di cosa sta parlando Ma tu come ti senti Ti senti un po' Madoff In qualità di ingegnere Che viene finanziato Da investitori Certo Io Quando scrivo codice Cioè io scrivo Il codice che entra In realtà Scrivo codice Con il codice Che in realtà Ho già venduto Cioè io vendo il codice Del codice degli altri Tutto uno schema Io do ai nuovi vizi Che entrano Delle linee di codice Che però hanno prodotto I ragazzi Cioè Tutti fanno così Quindi c'hai C'hai il network Di E che poi il codice Che scrivi tu In realtà Diciamo tu semplicemente Paghi 1-5 dollari Su Fiverr Che scrive E poi tu lo rivendi E gli dico anche Che lui gli do 2 dollari Sul cugino Che fa entrare dentro A scrivere il codice Che per lui Ogni start up tech Tecologica funziona così È un incentivo Per invitare altri Certo Poi abbiamo 200.000 developer A un certo punto Se non serviva a niente E poi fai l'ipo E poi fai l'ipo Certo Prendono degli uffici belli Per esempio Ma puoi avere degli uffici belli Se non è grafica È assurdo Viaggiano in jet privato Hanno delle macchine Assumono per Io ci ho lavorato per start up Che hanno valutazioni Anche di qualche miliardo Di dollari Jet privati L'ho visti solo Su Adam Neumann C'è la Brin e Page L'avevano Eric Schmidt Forse uno di Google Qualche principio di verità Ci sta È ovvio Che la start up Ma non erano più start up Prendi finanziamenti E fai investimenti esagerati Quello lì È anche sbagliato Però in genere Il grosso investimento iniziale È su forza lavoro E su hardware Sì Poi il discorso ufficio È anche più complesso Cioè io per esempio L'azienda dove ho iniziato A lavorare qui in Portogallo L'ufficio era un fortissimo Punto di attrazione Perché era un ufficio Molto bello Dentro un edificio storico Di Lisbona E quindi C'erano tante scuole Che venivano lì Facevano il giro E questo ci generava Molti intern Che venivano C'era una bella atmosfera E poi adesso Non No quando sei presidio Non al primo finanziamento Sì Sì Avviene al secondo Terzo round Persone No A rotta di collo E Si sostengono Con il denaro Degli investitori Quindi non è un'azienda Non c'è nessun tipo L'azienda Monetizza un mercato Il loro mercato Sono gli investitori Quindi mettiamoci d'accordo E tentano Qual è il sogno Di Liberare Tutta quella equity Che È stata imprigionata Con i finanziamenti Con questa valutazione teorica Poi dicono Siccome hanno comprato Il 10% a 100 mila La start up vale un milione Sì Va bene Ok E che cosa fanno? Tentano di fare l'ex Ma se qualcuno De se compra Vuol dire che Rivali E legge del mercato Tentano di fare l'ex Perché è un inganno Se qualcuno Si compra la consulenza A 10 mila euro l'ora Però Domanda scomoda Sono andato alla zappa Sui piedi Sì Sì Comunque A parte il fatto che Gli investitori I founder Durante la start up Pure se fanno un serie 6 Da 10 milioni Non sono ricchi Cioè questa idea Che Campano nell'oro No Assolutamente no Chiaro Poi arrivi a un certo punto In cui Magari Dopo che ti sei dato Lo stipendio da fame Per 5 anni Perché tendenzialmente Fondatori di una start up Non è che hanno un salario Che È un salario Che è la metà Un terzo Di quello che prenderebbero Andando a lavorare Da qualsiasi altra parte Dopo Magari Sì Se riesci a venderti Alcune share Sul mercato secondario Sicuramente puoi fare Dei bei soldi Ma sono cose che Tra l'altro Sono fatte Col consenso Degli investitori Cioè tu lo devi comunicare Se vendi share secondarie E sei un founder C'è scritto in tutti gli ESOP Non è ESOP Nel caso dei founder Vabbè C'è scritto in tutti i contratti Di investimento Template del mondo Questa cosa Quindi Non lo so È poi ovvio che fai la exit Perché a un certo punto Perché questo odio Per le start up Non l'ho ben capita Da parte di Secondo me è quello che dicevi tu Non è il mercato di riferimento E poi C'è un po' di verità Nel fatto che Comunque sono aziende Che portano avanti Questi numeroni 20 milioni Di fund raise E quindi E poi falliscono Quindi la gente Chiaramente guarda un po' Con l'occhio storto Perché ci sta Ci sta alla fine Il mercato è autoregolante Cioè Nel senso che Se fallissero In altissima percentuale O quelle che hanno successo Avessero un ritorno Non proporzionale Cioè non portassero Un expected return positivo Non costerebbero Il mercato Le piazzerebbe D'altra parte Anche perché Non è un mercato Delle consulenze In cui magari qualche privato Non è proprio Diciamo Non è un mercato Molto efficiente Il mercato degli investimenti Con tutti i VC È un po' più efficiente Del mercato delle consulenze Certo Poi sicuramente Si può parlare Del fatto che Negli ultimi anni C'è stato un boost Del mercato Un po' artificiale Che infatti È scoppiato poi Nel aprile 2022 Perché c'erano Tanti soldi in giro Perché i tassi di interesse Erano a zero E quindi la gente Metteva soldi In questi VC fund Ne sono usciti 5.000 E magari dopo questa Piccola fase di crisi Ne rimarranno 1.000 Però fa parte Del Fa parte del ciclo Il ciclo della vita Quindi trovare qualcuno Che sia più imbecille O hanno costruito Un'azienda Che si sostiene Con i clienti O che quantomeno È in quella traiettoria Io capisco Stiamo costruendo Una cosa Talmente tanto grossa Che ci vogliono 5 anni di finanziamenti Perché a me Va tutta bene Quella roba lì Ma allora Che cazzo vuol dire Sto video Scusami Tutte nascono così Non è che sulla startup Nasce dicendo Adesso brucio soldi Non ho alcun prodotto E poi scappo E mi riempiono di soldi No Ma che è il video di MrBeast Tipo spendi quanto più puoi Nei 5 minuti E ti tieni quello che compri Ma tutte le startup Hanno questa idea Cioè pure questa cosa Del video Io ancora non ne ho parlato Ma l'ha detto 2-3 volte Che non hai clienti Ma quale investitore Ti dai soldi Se non c'è clienti Cioè tu devi avere Dei clienti paganti Che dimostrano Che c'è una necessità Per il tuo prodotto Che fanno vedere Che in futuro È un'azienda Che potrebbe diventare Sostenibile Che potrebbe essere C'è un caso C'è un asterisco A questa roba qua Avendo lavorato in big tech Posso dirti Ci sono aziende Che nascono Con l'obiettivo Di farsi acquisire Da una specifica azienda In quel caso Anche se non sono Di per sé sostenibili Però sanno già Che incorporati In quell'azienda Darebbero un asset enorme Allora in quel caso Ci sta Spesso sono tipo Ex dipendenti Che si licenziano Sì certo Poi in quel caso Creano Un qualcosa Che sanno già Che l'azienda madre Comprerebbe Non è facile Però ho visto Cosa del genere Non è una truffa Quelle sono L'azienda se la compra Se ne trovi Ne trai vantaggio Non è che Facebook Google Sono stupide Sì Ma tra l'altro C'è anche per esempio Biotech O biotechnology Cose più complicate Deep tech è un'altra Quando tu vedi Le classificazioni Di Y Combinator O simili Sono classificati Come business model Diversi A volte Perché appunto È un modo Completamente diverso Di arrivare sul mercato Ma è anche la stessa cosa Per un farmaco Il farmaco funziona Allo stesso modo Sono quei tipi di business Dove tu hai Un all in su qualcosa E funziona Oppure no E poi di solito Anche se sei un'azienda Che poi vuole vendere a Google Per essere comprata da Google Devi avere un qualcosa Di figo Utilizzabile Da poi potenziali clienti No? Chiaro La maggior parte Magari qualcosa Che di per sé Farebbe difficoltà Per un business model Magari integrata in Gmail Sarebbe fighissimo Sì Certo Una cosa però Questo video è rivolto A chi vuole investire in startup Chi vuole fondare startup A chi No lui ha detto solo È la sua opinione Da parte di un corso Che si chiama Perle ai porci Sì Non lo so È una conferenza Non so dove Ok Sembra Forse è un set Di una conferenza E sarebbe bello Vedere l'altro lato Della conferenza Cosa succede Però sì Lui ha detto semplicemente Mi chiedete spesso Cosa ne penso Delle startup Ecco Secondo me Le startup Sono questo Ok Vediamo Mancano gli ultimi 40 secondi Vediamo le altre perle A noi porci Più o meno Ma molte Semplicemente Vengono vendute E acquistate Non c'è niente Sono scatole vuote Qui Sono a volte Delle operazioni Di pump and dump Come le ICO Cioè l'ICO Mi va anche bene Ma dovremmo guardare Cosa stiamo lanciando Quindi Sì Diciamo che Paragonare Le ICO Alle startup Anche qui Mi sembra Zero Cioè l'ICO è un mercato Zero regolamentato Che come dicevi tu prima Vende A persone Molto spesso Che non hanno Lo stesso livello Di competenza Di conoscenza Che hanno Gli investitori I VC fund E quindi Che può essere Molto più predatorio Da quel punto di vista Tra l'altro Quindi anche per questo Ci sono Delle ICO Che oggettivamente Fanno schifo E che raccolgono Un sacco di soldi Così come è vero Che ci sono anche Startup Che fanno schifo Che non hanno un futuro E che raccolgono Tanti soldi Succede Però Perché proprio Pum and dump Non c'entra proprio niente Perché proprio No ma WeWork in realtà Cioè continua a esistere È comunque valutata Qualche miliardo di dollari Quindi Un'azienda figa Interessante Però è stata Pompata Molto di più Di quello che Non poteva essere Ma non è un pump and dump Non è che lui L'ha pompata Per poi vendere subito dopo Cioè Sono mercati anche Anche molto più controllati Diffici di cosa Il genere Ci sono scam C'è Teranos Ci sono degli scam La truffa Non è che puoi evitare Infatti Teranos Lei Finì in penicione E Altra cosa importante Teranos Gli investitori Che c'erano dietro Non erano VC La maggior parte dei VC Che volevano investire In Teranos Perché chiaramente Tutti ne parlano Si casavano Quando gli hanno detto No noi la demo del prodotto Non ve la facciamo Non vi facciamo approfondire Sono scappati Le gambe levate Perché sono molto più istruiti La maggior parte Degli investitori Che sono rimasti fregati Da Teranos Erano personaggi istituzionali Addirittura c'era Quell'ex vice Vice capo del gabinetto Del presidente americano Adesso non ricordo Che era addirittura Advisor dell'azienda Non ricordo Quanto avevano alzato Però Arrivarci con Individual Contributor Non solo Non solo Seguoia c'era dentro Se non sbaglio Forse all'inizio I primi round Però una volta Che tu capisci Ok questi non mi fanno Vedere il prodotto Un po' di puzza Comincio a sentire Quindi Anche il caso Di WeWork È un po' più particolare Perché lì effettivamente C'erano tante revenue C'erano tante cose Però poi L'investimento pazzo Ha fatto uno Vabbè Comunque Sì Chiaramente ci sono Anche qui degli estremi Ma Dire che sono Pump and dump Stile ICO Mi sembra Sembra esagerato E poi ci sono La start up Magari l'azienda Fa dei miliardi Allora è una start up Perché nella mia È una parola Che non mi piace Non solo Ma sono anche abbastanza Parlo per invidia In realtà Perché Vedi Se Io faccio un progetto Imprendito Se faccio un'azienda E fallisco Mi danno del fallito Però tu Ti definisci start up Puoi iniziare E non finire 40 robe Che vanno a Rabengo E sei uno start up Parliamo un attimo Cerchiamo anche di capire Ah ecco perché Il video Vabbè Abbiamo capito C'è un pizzico Un bricelo di realtà C'è Fallisci Beh In una cultura non italiana In una cultura molto americana Fallisci presto Fallisci spesso È considerato Quasi una virtù Se lo fai con un'azienda Tradizionale Se è un fallito Un po' semplificazione Di questo Sì Nella cultura americana Secondo me Questa cosa c'è sempre Cioè pure se c'ha Il ristorante che fallisce Loro ce l'hanno Un po' sta cosa Del Perché nessuno Ha un'azienda Che non la vuole Cioè tutte le aziende Sono start up Ma che ristorante Nessuno fa il ristorante E basta Diferente lo fai per fare Una chain Che non conosco nessuna entità Per se tu apri un gabbiotto Che cambi laccio alle scarpe Stai già pensando A come fanno a diventare 500.000 Una catena Un brand riconosciuto C'è nessuno che sta lì fermo E fa il suo business Da riparatore di tetti E salutiamo gli amici Che riparano tetti Nulla in conto Adesso non è un esempio Ora sì Anche quello effettivamente È un buon punto Poi sì Magari a volte c'è questo culto Del fallimento eccessivo Ci può stare Insomma come riflessione Però ricapitolando Su questo video Secondo me Fa confusione Sul termine Startup Che è una cosa definita Cioè essere una startup Non vuol dire essere un'azienda Che sta iniziando Se vuoi approfondire C'è il video Commento sul Quello che Che dice Surry Ok sul mondo delle startup Spiegandogli un po' Cosa vuol dire Startup non è un'azienda Che sta iniziando Non è una piccola media impresa Ma è un'azienda Che ha determinate caratteristiche E si mette di essere una startup Quando raggiunge Un determinato stage Della propria crescita Difficile da definire Vai vai Scusa T'ho interrotto Tommy No scusa No Volevo dare un consiglio a Big Luca Se vuoi puoi applicare MR.rip Slash tank Con la tua idea di startup Vediamo se ci piace E gli diamo una valutazione Sì 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 Perché sarebbe bello Vederti presentare La tua idea di startup Perché no E appunto Poi se dovesse raggiungere Nel 2014 Su Tecrunch Avevano usato questa definizione 50 milioni di revenue annuali 100 impiegati O 500 milioni di valutazione Cominceremo a chiamarla Scale up Poi adesso i numeri Penso sarebbero un po' più alti Cominceremo a chiamarla scale up Cominceremo a chiamarla azienda Non è che Giocare con questa Poca chiarezza O definizioni poco chiare Di quando inizia Quando finisce una startup Non è che poi rende Tutto quanto Quello che c'è dietro Necessariamente Un pump and dump Uno scam Quindi Magari facendo un po' più Di ricerca Questo è quello Che avrebbe trovato Si percepisce Che non conosce il mondo E però Come spesso fanno Quelli che cercano Di non mostrare Alcun dubbio Parla di quello Di cui sta parlando Con troppa convenzione Quindi Teniamo la mente Un po' più aperta Ed è posizionamento Anche questa Ah ok Certo È il personaggio Che parla E non Luca De Stefani De Stefani Capirai C'è pure il cognome 95% uguale Quindi niente Grazie a questa Guest appearance Di Mr. Rip Vabbè Non vi dico neanche Di seguirlo sui suoi canali Perché tanto Lo conoscete già E ci vediamo Come al solito Al prossimo video Fate le solite cose Che vi dicono Di fare gli youtuber Iscrivervi Mettere mi piace Campanella Eccetera eccetera Ciao ciao